Buonasera da Thelma E da Papi siamo tornati ragazzi E che atmosfera San Siro per Milan-Torino che inizia in questo istante Milano in attacco con Love to Chick Love to Chick Ci prova, attenzione a Benaser Okaforra in avanti Okaforra La piazza C'è il tiro alto Casone del Milan a 9 minuti spaccati C'è l'infero lungo di Milinkovic Savic anticipa tutti Teo Hernandez Cristian Pulisic Occhiale americano Okaforra Okaforra Super parata Di Vanni a Milinkovic Savic in calcio d'angolo E recupera Love to Chick Ancora Okaforra Sempre alto Torino che avanza, attenzione Super giocata Di Radonic Megnan In calcio d'angolo Pulisic C'è lo scatto di Leo che viene servito In posizione buona Lea Attenzione da solo dentro Tami Reindez Segna olandese Centrocampista Ormai da un anno Che bella azione 1 a 0 per il Milan Attenzione a Tomori Pericoloso Chier Attenzione errore Sanguinoso Torino Sanabria Occhio paraguaiano Cerca spazi per calciare Sanabria Facile per me Calabria Calabria va avanti Calabria va avanti Calabria scivolata Love to Chick Cross Attenzione a Okaforra Traversa Sulla sforbiciata pazzesca Ancora leva il butto in mezzo Blocca Vanni Salvato il Toro Avanzamento di Ricci Per Radonic L'istudente ha la botta Potente Con anche previsione C'è parata di Mediano Milan Che ci prova ancora Con Calabria Calabria Attenzione parte Il Traversone Doppietta Fuori gioco E ancora un lato Alza la bandierina L'assistente Letto Si vedeva benissimo Letto E dunque C'è fuori gioco Occasione pazzesca per il Milan Che è riuscito a segnare Ed ecco qua Dal guardaline Il fuori gioco c'è di tanto E quello del Milan Cross A cercare Leao Che Calcia Potentissimo Mamera sballato Casone Milan Leao Salta tutti Leao Dribbling secco Leao Prova a saltare Melinkovic Leao Il gol Il gol dell'ala del Portogallo Raffaele Leao 2 a 0 al 75esimo Si libera Raffaele Leao A servire Okafor Sal cross Leao Calcia potentissima 1.0 Attenzione E recupero Ricci per Ricci 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 può tentare la botta Serve invece Tony Sarà Bocca al paraguiano Che è la piazza Finisce alto Sostituzione Sostituzione Esce Ricci Ma neanche può spazzare in profondità e così fa Tamese Leao Prova il cambio Anticipa tutti Milinkovic E la partita finisce qui Milano 2-0 Torino Milan con questi primi tre punti Prima uno spot Da me E da Babi Ciao a tutti Ciao Ciao